Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di Toxic Gamer 88 e oggi riprendiamo con Fallout 3 Allora, ci troviamo qui fuori dall'accampamento dei predoni Avamposto dei predatori, vabbè Ok, l'hai ucciso? Grazie Perché oggi andremo un po' a esplorare così Alla cazzo di cane Ah, dammi la maschera da un key che mi serve per riparare la mia Siamo stati abbastanza affortunati Ok Non sarà forte però almeno Perché adesso noi ci dirigeremo in due posti Uno è qui Andiamo a sud però Come al solito facciamo venire il giorno Ok Andiamo avanti Qui cosa c'è? Dove sono i miei ragazzi? Ma secondo voi se lancio No, ma è meglio Yeah Abbiamo fatto un macello Drive-in Trovato E adesso c'ho un problema E se qui c'era un libro E se qui c'era un libro Adesso dove minchia è? Santo Dio Spero tanto che ci sia ancora Perché altrimenti siamo nella merda E non posso permettermi di perdere qualche libro Che sicuramente qui c'era qualcosa Non so il perché E allora devo ricaricare Palle E devo fare una cosa un pochettino Cattiva Proviamoci così Qualche cosa c'è qui ragazzi Io odio rifare le cose però Cioè guardate lì cosa c'era Vuoi che Oh da quanto tempo La mitragliatrice Vaffanculo però cazzo Cioè uno deve fare Le cose a modo suo Facciamo a modo mio Ho capito Il fucile del riservista È messo male ma Niente Non ce la facciamo Esplodono ugualmente Eh vabbè Lasciamo perdere Se c'era un libro Una cosa è sicura Non lo troveremo mai più Porca troia Guardate che macello È tutto per sti Quattro finocchi Che non valgono nemmeno Un colpo del mio fucile Vaffanculo Cioè non c'è più niente È uno schifo Prendo solo le granate Vabbè basta Steam pack Ok Vaffanculo Allora Potenziamo questo E dirigiamoci al nostro prossimo obiettivo Dovrebbe essere la città di Andel Sì Che è dritto davanti a noi Lì ci sono libri importanti Però prendiamo la strada Perché credo che Qui ci sia Qualche altra cosa Da visitare Dove sono i nostri compagni Eccoli lì che fanno danni E qui Credo proprio di sì E vabbè Se c'era qualcosa Ce la siamo giocati Ragazzi È colpa Di tutto quel macello Qui dove siamo Ma ci siamo già venuti qui Mi sa di no E il bello è che ancora non abbiamo esplorato nessuna zona del Ok Qui va bene Perché qui si trovano alcuni libri Questa è una città di cannibali ragazzi Per chi non lo sapesse Qui ci stanno i cannibali Ma prima di andare qui Dobbiamo andare Dobbiamo andare verso qui Adesso vedete Perché Perché lì si trova Un libro interessante Qui Pure Però Andiamo prima lì E dobbiamo controllare anche in questo camion Va bene Va bene Cioè Riuscire a creare un personaggio perfetto Si sta arrivando Veramente Difficile E già c'è un libro Elettronica di Dean Perfetto Riparazione Riparazione Che porteremo Quasi al massimo Quasi E vabbè A parte questo Nelle scatole metalliche Cosa c'è? Rottami di ferro Che poi andremo a consegnare Altri rottami di ferro Buon per me Ancora non si sbriga A finire di renderizzare Quel maledetto video Così Sono più libero Ok Uno è fatto Si era questo Se cerchiamo un giro Qui intorno E lì c'è un altro Libro Andiamo Forza 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 Con velocità Qui si trova un altro libro Se non sbaglio Armi pesanti Se speravi Che non ti prendessi La proagine Un'arma interessante Un'arma interessante No Stavolta Non esplodi Stavolta manco per il cazzo Ti faccio esplodere Munizioni Munizioni I rottami I rottami li consegnerò Quando ne avrò Veramente tanti Perché Devo fare molti Maschere da Ok Ottimo Che ci aumenta Disarmato E qui c'è Eccolo Qui Il racconto di un venditore Di cazzo Scusate Una lama da falciatrice E cerchiamo Poi lo Chebab Ok Pensavo Stava per esplodere Non so Di chi sia Questo cosa Ma Rubiamo Allora Mi perculi O cosa Allora Un po' di qua Un po' di qua Ma vaffanculo Soltante esperienze Ok Qui non c'è più nulla A parte qualche Munizione Non mi interessa più niente Bene Adesso che abbiamo preso Un attimino Che me li segno Perché fortunatamente Ho scritto tutto Allora Baratto L'abbiamo preso E anche ripara Dovrebbe esserci Armi da mischia E Armi pesanti E uno Credo si trovi In Una caffetteria A sud Credo Verso qui Una caffetteria Qui vicino Si trova anche Armi pesanti Adesso Se siamo fortunati La troviamo subito Se poi ho registrato poco Meglio Perché possiamo dedicare Le nostre energie Da un'altra parte Allora Caffetteria Qui non vedo Niente Eccola lì Se siamo fortunati Lì Troveremo Armi pesanti E va tutto a vantaggio nostro Perché ho risparmiato Tantissimo tempo Perché poi Voglio andare a esplorare Nuove zone Ci andremo a svuotare Faremo tutto Grazie Munizioni Ok Dovrebbe essere Qui In teoria A meno che Non l'abbia già preso Cosa che Mi sembra Altamente Probabile Che Conoscendomi Io rubo Tutto Vediamo Dove cazzo Esiste O non esiste Questo è il problema Niente Mi sa che già qui Ce l'avamo passati Avevamo fatto Una bella Dose di Pulizia Coltello da burro La luce pilota Ci serve Ok Bene bene Allora Prima di andare A Andale Prendo questo Prendo anche questa Grazie Dovrebbe trovarsi Qui Ok Intanto Il mio pc Ha finito Di renderizzare Perché Tutto va Molto Più Fluido Sfortunatamente Qui non c'è La rivista Che cercavo Ma non mi preoccupo Andiamo a megaton Intanto Mi lascio Il segnalino Qui Così ci andiamo Allora ne manca Soltanto uno Ci andiamo a creare Adesso lo Shish Kebab Anzi Prima andiamo a vendere Qualche cosa Compriamo qualche munizione Sti cazzi Naturalmente Poi proveremo anche le armi Ultrapesanti Fatman E la qualsiasi Anzi Devo vendere Qualche cosa Batterie a fissione Sono mie Coltelli Inutili Questi Mio Via Poi che cosa Questi servono Questi servono Ma li daremo dopo Ragazzi Perché Per ora Salire di livello Non mi interessa Per nulla Mesmetron Mila impulsi Queste te le posso Anche dare E poi Non credo ci sia Altro Rottami E va bene Così dai Hai qualche Munizione interessante Questi me ne servivano Di più Va bene Così dai Buona caccia Facciamoci Guardate Abbiamo adesso Anche il guanto Da deathclaw Granata nuke Shish kebab Ok Ne abbiamo creato Un altro E lo possiamo Anche riparare Anche se Non lo consiglio Perché Adesso farà Totale 51 di danni E ci va bene Così Perché Poi lo farò Riparare Da moira Allora Perché Lo shish kebab Adesso Credo di averlo A livello 2 Schemi 2 2 Preso Dove lo Schema Lancia tutto Ancora V1 Mamma mia Perché se siamo Fortunati Troveremo un mercante Che ci venderà Il V2 Ok Intanto Qui c'ho Tutte le mie Cose che non mi servono Tra cui mettiamo Questo E questo Adesso le buttiamo Vabbè Le lascio qui Qui Lascio soltanto Le cose Che mi servono Questo 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 Macchinina Nequantum Dall'altro Lato Petardi Ho tantissime cose Che non mi servono Va bene così Altro lato E siamo a posto E possiamo andare Da un'altra parte Allora Questo Lo lascio qui Granate Me ne porto Anche i libri I giottami Dove sono Perché ne ho Palla Piatto Che cazzo Ho talmente Tante stronzate Che non so Cosa farci Irrottami Anche qui Ah Ho sbagliato Vabbè Serbatoio Dove Ok Mettiamo anche Questo qui E siamo a posto Ok Siamo abbastanza Leggeri Ci curiamo Ci togliamo Tutto Cosa Andiamo ad andare A prendere L'altro libro E allora Mappa globale Andiamo a prendere L'ultimo libro Qui E poi ci spostiamo E vaffanculo Con queste New cola Non è lui Dobbiamo andare A casa A casa Di Smith Basta Con queste Maschere Da Ok Un'altra Lettera Voltec Eccola Qui Nello scantinato Qui Troveremo Un altro libro Sì E lo dobbiamo Forza Rubare E' sicuro Per una ragione Allora Se li uccidiamo Ma non c'è nemmeno Bisogna Utilizzeremo Il trucchettino Ah Mi serve un'abilità Di scasso Pariaccento Scusatemi Che culo Di merda Guardate Sono cannibali Mangiano le persone Sono delle merda Possiamo anche ucciderli Qui c'è il ripper Un'arma Veramente Devastante Adesso capite Perché se li uccidete Vi danno Carne strana E' la carne Di essere umano Non c'è niente di Particolare Però qui dovrebbe esserci E dovrebbe trovarsi Una rivista Importante Che non trovo Perché non la trovo Perché o sono cieco Stranamente Non la trovo Coltelli Qui c'è un altro Ripper Che serve appunto Per tagliare Le carni Spostiamoli Vediamo se si trova Qui questo Allora Non è sicuro Eh no Non è vero Sto facendo Il più in fretta Possibile Ma non trovo Il fottutissimo Una fottutissima Rivista di merda Che si trova qui In questa casa Ne sono sicuro Al 100% Allora L'ho provata A ricaricare Nella speranza Che qualcosa Cambi Perché si trova qui Si trova sul tavolo In teoria Dovrebbe trovarsi Qui sul tavolo Ma non c'è Allora Per sicurezza Se io voglio caricare Carichiamo qui Utilizzo il trucchettino Ecco Odio i bug Quando ci sono questi bug Io impazzisco Eccolo qui Grognac il barbaro Preso Bisogna Se non lo trovate Fate Un salvataggio Prima di entrare qui Lo troverete Ok Qui abbiamo fatto Tutto Perfetto Perfetto E Andale L'abbiamo Ad Andale Non c'è più niente Di importante Possiamo anche Uccidere tutti Ma Non ci serve A meno che poi Non facciamo una missione Specifica E quindi Abbiamo preso Anche l'ultimo libro Che ci serviva E va bene così Comunque ragazzi Abbiamo Trovato altri tre libri Francamente Non so cosa fare Qui sono tutti cannibali Vediamo Se c'è qualcosa Di veloce Da fare Qui c'è il tunnel Di Yowa E qui invece C'erano le caverne Ripetitore KB5 Paradise Falls Voglio ritornare Un attimo Nella Tridente Germantown Perché qui Potrebbe esserci qualcosa Che abbiamo Dimenticato Lasciamo fare A lui Allora Questo super mutante Ci penso io Guardate Finitano Finitano E niente Niente ci fermerà Non credo proprio Vi ho appena Aperto il culo Ok prima di Terminare il video Diamo un'ultima Controllata Qui Alla stazione Di polizia Perché Se non erro C'era una serratura Che non riuscivamo A scassinare Eccola Vediamo Eccola qui Facciamo lo stesso Trucchettino Perché non mi va Di perderci tempo E dai Si fa prima così Per quelle molto difficili E dai Seccatura E vaffanculo Aperta Ok Vediamo se abbiamo Dimenticato qui qualcosa Anche se Credo di no Un libro prebellico Credo non ci sia altro Soltanto ste quattro cazzate Beh Esperienza facile Se non c'è niente Infatti dubito Che ci sia altro Terminare di polizia Molto difficile No Credo che Non ci sia veramente Nient'altro A parte Queste cose Che Non ho preso A causa di spazio Beh Allora Che dirvi Ragazzi Termino qui Questo video Noi ci vediamo Alla prossima Mi raccomando Ricordatevi Di lasciare un bel Mi piace sotto Il video Però aspettate 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 Qui cosa c'è Oh ma qui c'è Una città Allora Prima di Salutarci Definitivamente Io mi faccio Un giro Qui per vedere Se trovo Qualche cosa Se non c'è niente Alla prossima Ragazzi È inutile Che Perdiamo Troppo tempo Anche se Io credo Che qui Non ci sia Pronte Pensaci tu No È lui Che mi attacca Guardate i danni Oramai Siamo Dei fotturissimi Carri armati Mi sa Che qui Non c'è Proprio niente A parte Lì ci andremo Dopo Però almeno Abbiamo preso Altri libri Cose utili Vediamo Vediamo Qualche Cosina Me l'avete Lasciata Qui Qualche Rivista Porno Qui Non c'eravamo Mai venuti Ma non credo Ci sia qualcosa Di utile Troppo bello Se riuscissi A trovare Qualche cosa Ma Dubito Ne dubito Fortemente Voleva vincere Contro il mio Shish Kebab Ma Non è andata Come doveva andare Ma vabbè Qui non c'è niente Ragazzi A parte Super mutanti Everywhere Posso dare Un'occhiata Qui Ma Troppo devastate Sono queste case Vediamo Vediamo Niente ragazzi Allora ci vediamo Col prossimo video E vediamo Quello che c'è da fare Alla prossima